La famiglia di Zelia Guzzo, l'insegnante di Gela, nel Nisseno, di 37 anni, deceduta dopo 24 giorni dalla somministrazione del vaccino AstraZeneca, avrebbe ottenuto dal Ministero della Salute un indennizzo di 77.000 euro. Lo ha reso noto l'avvocato Valerio Messina, che assiste la famiglia. I periti nominati dalla procura, ha detto l'avvocato, hanno stabilito, come in altri otto casi in Italia, che la causa della morte fu proprio la somministrazione del vaccino basato sull'utilizzo dell'adenovirus. L'insegnante, madre di un bimbo di un anno e mezzo, è morta per una trombosi celebrale provocata dall'inoculazione del vaccino. La famiglia dell'insegnante definisce la cifra dell'indennizzo irrisoria e offensiva per una perdita che ha provocato tanto dolore. Saranno risarciti il marito, il figlio e le sorelle. La vita non ha prezzo, dice il marito della docente, Andrea Nicosia, ma questa somma è un'offesa per il mio bambino rimasto orfano a due anni. Abbiamo persino dovuto batterci per ottenerla. Mi sento doppiamente tradito dallo Stato. Andremo avanti in sede penale e civile per avere giustizia, ha aggiunto il legale. La famiglia Guzzo, sempre secondo il legale, è stata la prima in Italia ad aver ricevuto l'indennizzo, a luglio scorso. Recentemente sarebbero stati risarciti, con la stessa somma, anche i genitori di un insegnante 32enne di Genova, Francesca Toscano. In Italia sono otto le morti che sarebbero state accertate in seguito all'inoculazione di AstraZeneca. Anche loro sono in attesa di indennizzo da parte dello Stato. Zelia Guzzo è stata vaccinata il primo marzo del 2021. Pochi giorni dopo ha iniziato a stare male. Il 12 marzo è stata ricoverata all'ospedale di Caltanissetta, dove è deceduta il 24 marzo.